Grande fratello VIP, Alex Belli e la moglie Delia Duran beccati dopo la puntata durante una lite in treno, ecco le foto dopo le prime voci sul ritorno pacifico di Alex Belli con la moglie Delia Duran, alcune foto rivelano una forte lite tra i due, ex coniugi, avvenuta in treno, dopo la puntata del GF VIP, durante la quale la donna avrebbe lanciato la sua fede nuziale in faccia all'attore, di seguito le foto dello scontro. Leggi anche, Belen Rodriguez e Michele Morrone stanno insieme, ecco le foto e il video Alex Belli e la moglie Delia, si sono lasciati? Durante la puntata del GF VIP, Delia Duran aveva deciso di lasciare in diretta televisiva Alex Belli, scatenando la reazione del marito, che aveva preferito farsi squalificare per andarle incontro e risolvere i loro problemi. mp4 ma cosa è successo subito dopo la puntata tra Alex Belli e la moglie Delia Duran? Si sono lasciati davvero o sono tornati insieme? Una volta rientrato in studio da Alfonso Signorini, l'attore ha rivelato dei forti dubbi e aveva confessato di non sapere se avrebbero passato la notte insieme. Scopriamo cosa ha rivelato Novella 2000 in merito alla giornata successiva alla puntata. Alex Belli e Delia Duran, lite in treno nelle ultime ore, però, l'esperta di gossip di Yanira Marzano ha mostrato una foto di Alex Belli e la moglie Delia Duran insieme alla stazione di Roma Termini. Subito dopo Novella 2000 ha pubblicato delle nuove foto e la segnalazione di un passeggero del treno su cui si trovava la coppia. Ecco cosa sarebbe successo, Alex Belli ha litigato con Delia Duran in treno, foto Ecco le foto della lite di Alex Belli e la moglie di Delia Duran in treno, foto di Novella 2000 Foto di Novella 2000 e voi cosa ne pensate? Restate aggiornati con per scoprire tutte le news in merito cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.